E l'amara sorpresa capitata ad un pastore in località Cannavale, gli animali presi di mira ed eliminati ferocemente con polpetti al veleno stavano sorvegliando mandri e greggi, un episodio squallido che ha fatto riesplodere inevitabilmente l'allarme in paese. Tutti sanno, ma nessuno ha il coraggio di ponire l'autore o gli autori di tali gesti inqualificabili, ci dice un abitante. Si combatte da anni, ma senza che ci sia l'aiuto di nessuno nell'omertà più assoluta. Non si contano i cani abbelenati nella zona tra Greci e Faeto nel corso degli anni. Forse sarà finito il periodo dei piromani, ma è cominciato quello della caccia. Fin qui nulla di male, si legge sullo sito montaguto.com. La notizia più sconvolgente è che ancora una volta qui tra Greci e Faeto sono stati trovati alcuni cani ammazzati. Non c'è atrocità peggiore che questa. Ma sull'ultimo episodio a Cannavale la caccia non c'entra. Vi sarebbero stupide questioni di confine o vendetta personale. Alla base di tutto questo, comeppure non si è fatto ancora giustizia sulla barbara uccisione di Pippo, uno degli episodi più atroci degli ultimi anni, dettato da malvagità inaudita, l'assassino potrebbe avere la stessa mano di chi ha eliminato i due splendidi maremmani.